Buongiorno a tutti. Dopo la firma anche da parte della FLCCGL che si aggiunge a quella di CISL Scuola ed Anief, si è tenuto lo scorso 9 novembre un incontro tra organizzazioni sindacali e Ministero dell'Istruzione per definire altri aspetti non affrontati dal contratto collettivo sulla didattica digitale. In particolare le parti sindacali hanno ottenuto un impegno da parte del Ministero tra l'altro a garantire una costante informazione nei confronti alle organizzazioni sindacali, quindi un corretto esercizio delle relazioni sindacali stesse, un impegno da parte del Ministero anche a garantire a tutti i docenti, compresi i precari, l'accesso alla strumentazione tecnologica utile per lo svolgimento della didattica digitale. Di contro il Ministero lo stesso giorno 9 novembre ha pubblicato una nota del direttore generale Max Bruschi con la quale ha puntualizzato alcuni spetti regolati dal contratto collettivo sulla didattica digitale. In particolare viene specificato che non sarà obbligatoria sostanzialmente la presenza dei docenti a scuola per lo svolgimento della didattica a distanza, che i docenti autonomamente potranno regolare le eventuali pause tra una lezione e l'altra svolte in DAD senza dover necessariamente recuperare queste pause dovute al recupero psicofisico e così via. Però residuano alcuni aspetti più oscuri del contratto integrativo appena sottoscritto. In particolare ci riferiamo a più che altro ai diritti dei docenti che non vengono adeguatamente puntualizzati. In particolare si parla di orario minimo di servizio per garantire che i docenti impegnati nella didattica a distanza osservino il minimo orario settimanale di servizio previsto dal contratto collettivo nazionale. Tuttavia non si pone alcun limite nemmeno implicitamente all'impegno che viene richiesto al di fuori del normale orario di servizio ai docenti per preparare lezioni. È un problema che hanno riscontrato molti docenti da marzo, da quando è iniziata la didattica a distanza, ossia quello dell'enorme impegno richiesto per la preparazione delle lezioni in DAD, soprattutto per le lezioni asincrone, quindi la preparazione di materiali audiovisivi e così via. Il contratto nulla dice in proposito se non demandare alla contrattazione integrativa di istituto la regolamentazione circa l'utilizzo dei strumenti informatici al di fuori dell'orario di servizio. Apparentemente questo strumento serve per porre in qualche modo un'argine all'invio di materiale da parte dei dirigenti scolastici anche al di fuori del normale orario di servizio dei docenti, tuttavia potrebbe essere utilizzato come strumento anche per arginare l'eccessivo impegno richiesto dai docenti per lo svolgimento della DAD anche ben oltre il normale orario di servizio. Arrivederci. Grazie a tutti.